Parliamo di Spider-Man Lotus. Intanto, una piccola premessa per chi non conoscesse il progetto, visto che comunque non è una cosa di ufficiale. Quello di cui parleremo oggi è un film di Spider-Man a tutti gli effetti, solo che non è né di Sony né di Disney. È un fan made, pubblicato gratuitamente su YouTube. Lo trovate infatti lì in inglese per ora. A quanto pare arriverà pure un doppiaggio italiano, ma non ne so assolutamente nulla, non so dove trovarlo poi. E voi direte, come ha fatto questa persona pubblicare un film su Spider-Man? Beh, perché intanto è un film originale, diciamo che comunque non è né il film di Sam Raimi, non è una roba di questo genere. È un film proprio su Spider-Man, con nuovi attori, una nuova storia. Nonostante poi, vabbè, i riferimenti e le ispirazioni a fumetti e film, però c'è Spider-Man, che non è sicuramente il Winnie the Pooh di turno. Quindi, come hanno fatto a utilizzare Spider-Man in un loro film? Beh, appunto è un film pubblicato gratuitamente su YouTube. Non arriveranno guadagni a queste persone che hanno lavorato al film. Lo hanno realizzato con una campagna Kickstarter e, se non sbaglio, sono riusciti a raggruppare ben 112.000 dollari, che comunque è una buona somma. E per un film del genere ci può anche stare una somma così piccola, ma allo stesso tempo così grande per, appunto, un progetto per YouTube, che poi sarebbe risultato gratuito. Quindi, in descrizione vi lascio il link per vedere il film. È, appunto, gratuito per tutti, libero in inglese. C'è la traduzione automatica in italiano, ma a questo punto, per quel che vale quella traduzione di YouTube, vi consiglierei di guardarlo in originale, perché, alla fine comunque è abbastanza facile da seguire se si sa un minimo di inglese. Non ci sono, appunto, pubblicità a distogliervi e a bloccare la visione, quindi, ripeto, link di Spider-Man Lotus in descrizione. Adesso però parliamo del film. Intanto, perché non c'è mai stato un film di Spider-Man ufficiale con il titolo Spider-Man Lotus? Perché fa schifo. Ecco, veramente non capisco perché abbiano voluto mettere questo titolo, che suona male, almeno personalmente, non mi piace per nulla. E poi anche guardando il film, alla fine, Loto, Lotus è Loto in italiano, non capisco nemmeno poi così tanto il motivo. La recensione di oggi ovviamente sarà divisa in due parti, come sempre. Una parte senza spoiler iniziale, poi avvertimento e parte spoiler. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che in descrizione c'è il link di Pampling. Sono gli ultimi giorni per la spedizione gratuita raggiunti 30€ nell'ordine effettivo, quindi affrettatevi se volete risparmiare qui 3,90€ di spedizione. Per ora state vedendo sullo schermo qualche design per t-shirt, poster, calze... Calze no, in realtà, perché le calze hanno diversi design. Però a proposito di calze, se ne volete un paio totalmente in modo gratuito, basta che al momento del pagamento inserirete il codice Il Pensiero 4 nella barra apposita e potrete scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e vi arriveranno a casa a 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del codice Il Pensiero 4. Ma parliamo del film. È un fanmade, non è che mi aspettassi chissà che grandissimo prodotto, però sotto il punto di vista di fanmade, appunto, in realtà le aspettative sono state ripagate, se non di più, perché comunque, ok, possiamo trovare il pelo nell'uovo, ma non sembra un fanmade, alla fine è realizzato anche bene. La regia non è ispiratissima, naturalmente, ma è comunque una regia ben fatta e la CGI, anche, è invidiabile alle attuali DC e Marvel. Ho visto roba peggiore in The Flash, che è un film da 300 milioni di dollari e dietro ci sta, appunto, DC e Warner. Quindi, sotto questo punto di vista, più specifico, Spider-Man Lotus è riuscito a ripagare le aspettative, anzi, a elevarle. Però, che noia, veramente noiosissimo. Sarà per i dialoghi diluiti, sarà per il miele tra una scena e l'altra, veramente melenzo come film, sarà per le sequenze, le scene interminabili, veramente ci sono dei momenti molto lenti che mi hanno fatto quasi addormentare e, credetemi, non sto dicendo che noia di film, non ne sto parlando male solo perché mi aspettavo un film con più azione, con più combattimenti, con più un villain. L'idea del Peter Parker, perché poi questo è Spider-Man Lotus, ma in realtà dovrebbe, si sarebbe dovuto chiamare Peter Parker Lotus, perché è un film più su Peter Parker, una delle prime volte con il personaggio, al cinema parliamo di film, e quindi ci sono veramente pochissime scene d'azione, complice, ovviamente, anche il budget basso, perché alla fine per realizzare delle scene d'azione i decenti serve un budget alto, il 112 milioni, mila, scusate, milioni sarebbe stato leggermente di più, comunque servono tanti soldi. E possiamo dividere le scene d'azione in due, ovvero quella in cui Spider-Man volteggia in CGI, naturalmente, e quella in cui combatte. Quelle in cui combatte sono molto di meno, forse solo una all'inizio contro un villain comunque secondario ma importante di Spider-Man, realizzato abbastanza malaccio, come in realtà anche il Green Goblin, che si è visto nei trailer, quindi posso parlarne tranquillamente, il Green Goblin mi fa alquanto sorridere come mascherone, non mi piace quasi per nulla, e il villain che si vede all'inizio anche in realtà sembra molto un cosplayer che non sa lavorare ai suoi costumi. Però a proposito di costumi, il costume di Spider-Man mi piace. Ovviamente si vede che è un costume molto cosplayeroso, però sono riusciti ad adattarlo al meglio nell'atmosfera di qualcosa di realistico. Stavo dicendo appunto, le scene d'azione possono essere o volteggiamenti o combattimenti. Questi molto meno dei volteggiamenti che sono realizzati in CGI in un modo comunque anche carino. C'era, se non sbaglio, un piccolo teaser in cui si vedeva proprio Spider-Man, quelle due volte in cui volteggia, una delle due volte l'hanno messa come teaser, e alla fine sembra sì, un po' il Marvel Spider-Man per PS4, ma ragazzi, 112 mila dollari, diciamo che per fare un film di due ore si può anche perdonare. Quindi paradossalmente la CGI e tutto il lato tecnico, tralasciando la sceneggiatura, ma ne parleremo fra poco, è promossa per quanto mi riguarda in Spider-Man Lotus. Il soggetto del film, la trama in realtà del film, è ispirata a Spider-Man Blue. Fumetto che ho letto ed è anche abbastanza carino, tralasciando qualche momento un po' strano perché comunque è un fumetto del 2002, il periodo era un po' strano già di suo, e quindi ci sono alcune vignette molto ridicole per una storia del genere. Parere personale, naturalmente, è proprio come in Spider-Man Blue, qui la storia è ambientata post Gwen Stacy, post morte di Gwen Stacy. Non è spoiler, naturalmente, la morte di Gwen Stacy perché, penso lo sappiano anche i muri, non solo per la The Amazing Spider-Man 2, ma proprio è morta, non so esattamente l'anno, ma è morta qualche decina di anni fa nei fumetti. E ripeto che l'idea di avere un film così profondo per Peter Parker, per così introspettivo nella sua storia, nel suo riprendersi il ruolo di Spider-Man dopo essere stato accusato di aver ucciso sia Gwen, sia Norman Osborn, perché sappiamo tutti che è stato Norman Osborn, Green Goblin, ad uccidere la nostra Gwen Stacy, e poi è accusato anche di aver ucciso il capitano Stacy, solo perché appunto era lì, che si trovava lì in quel momento. È un momento quindi triste per Peter, non solo per la morte della sua ragazza, ma proprio anche perché Spider-Man non è visto di buon occhio, e il film gioca male, per quanto mi riguarda, proprio su questo riprendersi il ruolo di Spider-Man, non solo maschera e costume, proprio spiritualmente. Peter Parker in quel momento non è più Spider-Man. Alla fine poi di Spider-Man Blue c'è anche poco, possiamo riferirci a quel fumetto con piccoli elementi di questo film, come per esempio l'iconica rosa sul punto di morte di Gwen, sul ponte, roba appunto del fumetto che succede in questo film. Poi abbiamo tantissimi flashback, e questo però è un problema per questo film, cosa che non era per il fumetto, lì era quasi tutto in medias res, anzi quasi il 99% era in medias res come fumetto, e qui il film vuole un po' imitare quella struttura, solo che per quanto mi riguarda è risultata molto antipatica, proprio a livello di nervosismo quando comparivano così tanti flashback tutti assieme, anche perché erano in bianco e nero. Per fare il riferimento al fumetto secondo me avrebbero anche potuto farle in blu, con una tinta blu, sul bianco e nero naturalmente, ma capisco il motivo per cui non abbiano fatto questa scelta, magari non l'avrebbero capita tutti e sarebbe risultata il doppio antipatica, però ci sono veramente tantissimi flashback, di qualsiasi cosa davvero. Questo film si svolge più nel passato che nel presente, come nel fumetto c'è anche Peter che parla, qui non sta registrando ma sta parlando con Gwen come se fosse ancora viva, cosa che effettivamente fa nel fumetto solo che sì, lì sta registrando, e alla fine del fumetto è un po' simile, diciamo alla fine del film è un po' simile al fumetto. E i personaggi impiegati in Lotus sono quelli del fumetto, abbiamo Spider-Man, Peter più che Spider-Man, abbiamo Green Goblin, abbiamo Flash, abbiamo Harry Osborn, Gwen, anche se molto meno del fumetto, qui Gwen non è praticamente utilizzata quasi per nulla, e poi MJ, che ha un ruolo totalmente diverso, ripeto, è solo ispirato a Spider-Man Blue, non ha poi nulla a che fare con quello che succede in quel fumetto, con i dilemmi di quel Peter Parker Spider-Man qua, è tutta un'altra cosa. Sarà quindi anche per i flashback che ho notato questa lentezza veramente immensa, in molte scene ho sbadigliato, in molte scene proprio mi stavo per addormentare, avevo quasi gli occhi chiusi, fate conto che l'ho visto in una televisione quindi non ero nemmeno in sala, e già in sala c'è la possibilità che mi addormenti, cosa che stava succedendo con Shark 2, tra l'altro recensione qui, se volete sapere la mia su Shark 2 l'abisso. Una cosa però c'è da dirla, gli attori sono anche abbastanza bravi, soprattutto il protagonista, il protagonista Peter Parker, non ricordo adesso i nomi degli attori perché non sono famosissimi e comunque sono nomi che sento per la primissima volta, però quello di l'attore di Peter Parker è bravo, anche l'attrice di MJ ci può stare, sinceramente l'attrice di Gwen per quel poco che si è vista non mi ha fatto impazzire, mentre Harry Osborn sarà forse per proprio i connotati, ma mi è risultata molto antipatica, non che Harry Osborn debba essere più simpatico e più gioviale di Peter Parker, però questo Harry di Osborn nello specifico, non lo so, antipatico. Anche nelle scene in cui non deve risultare antipatico, direi. Nel film abbiamo appunto Harry e anche Norman che è morto, ci viene raccontato, ci viene detto che è stato Spider-Man a ucciderlo, forse letteralmente è stato l'unico personaggio dei tre citati che effettivamente è stato ucciso da Spider-Man, vediamo tutto in un flashback, chi l'avrebbe mai detto? Il costume del Green Goblin non mi piace assolutamente, sembra uno di quei mostri folcloristici di qualche paesello in qualche parte del mondo e sia questa che anche le altre scene di combattimento alla fine sono molto claustrofobiche, molto chiuse in un vicolo, circondati dal nero ed è una cosa che non ho apprezzato per niente. Dopo diversi dialoghi e momenti lenti, noiosi del film, arriviamo a una parte a cui non capisco esattamente come ci si arriva. Come Peter Spider-Man entra in quella casa, per quale motivo lo fa soprattutto? Si rivela una parte importantissima per il film, forse la parte cardine dell'intero Spider-Man Lotus, tralasciando qualche incongruenza che vabbè ha senso, io sorvolo sempre queste cose perché in questa sezione del film ci vengono presentati i videogiochi cartoni di Spider-Man, il film è ambientato nel 2023 e Spider-Man esiste solo da 5 anni e c'è un videogioco anni 90, anni 80, anni 90, fa un po' ridere come roba, anche un cartone anni 70, però sorvolo un po' questa roba sul pensare perché, sul pensare al fatto che in un cartone o in un film o in un fumetto di Spider-Man prima o poi esce il nome di Peter Parker, soprattutto nel cartone che alla fine è l'unica cosa che all'interno del film fanno vedere in un momento in cui c'è Peter Parker che parla con J. Jonah e ripeto, sospensione dell'incredulità, questa cosa la sorvolo totalmente perché succede anche in Into the Spider-Verse, quindi immaginate se non fosse successa anche qui in questo Lotus, se non l'avessi perdonata anche in un film fan-made. In Into the Spider-Verse abbiamo Miles che si ritrova con il primo fumetto di Spider-Man sulla faccia e c'è letteralmente la vignetta con Peter Parker che viene morso dal ragno e nessuno prima della sua morte sapeva di Peter Parker. Qui c'è la stessa cosa ma non lo vedo come un problema. Il fatto sta che tutta questa sezione con questi personaggi in questa casa è lunga, tanto lunga, ci sono dei momenti che veramente dico perché perché le hanno messi, letteralmente hanno registrato lo schermo del gioco e hanno messo per qualche secondo i propri immagini a tutto schermo di questo gioco, ok. Era forse un momento fan-service che però non funziona, soprattutto in un film che vuole essere così profondo come Spider-Man Lotus. È proprio una pausa a tutto per arrivare poi solo dopo, per farti capire che comunque questo personaggio che abita in questa casa è veramente un fan sfegatato di Spider-Man e c'è praticamente tutto, però si arriva solamente dopo alla parte importante per Spider-Man e Peter Parker che ci può anche stare soprattutto per un colpo di scena successivo che non mi sarei aspettato e appunto il finale riprende un po' quello che si vede in Spider-Man Blu in modo diverso a livello temporale perché immagino che poi la storia di questi personaggi che non rivedremo mai più perché non ci saranno sequel in teoria perché non guadagneranno nulla quindi non ha senso fare un altro film. Credo che comunque l'ultima scena di questo film porterà poi a quello che succede in Spider-Man... in Spider-Man Blu anche se in modo diverso. A livello temporale differente sono quasi la stessa scena solo che non ci sono gli stessi rapporti tra i personaggi inquadrati. Ma adesso direi di passare alla parte spoiler del video quindi se non avete visto Spider-Man Lotus e siete interessati a vederlo intanto il link è in descrizione e vi invito a lasciare questo video perché gli spoiler e i dettagli inizieranno tra 3, 2, 1. In realtà da spoilerare alla fine c'è solo effettivamente il colpo di scena finale che fa ritornare Peter in gioco come Spider-Man quindi ad un certo punto totalmente a caso ripeto non c'è nessuna ravvisaglia di questa idea di Peter di questo momento di questa sequenza Spider-Man si presenta a casa di questo fan sfegadato di questo bambino di 8 anni immagino viste poi le date successive fan di Spider-Man a livelli estremi veramente a qualsiasi cosa compreso il televisore con Spider-Man della serie animata vecchia che va ininterrottamente nonostante lui non la stia guardando e la madre gli legga un fumetto ok vabbè a veramente qualsiasi cosa compreso il gioco anni 90 anche se Spider-Man esiste solo da 5 anni nel 2023 questo bambino è Tim non ci viene presentato in altri modi in altri momenti questa è la prima volta che lo vediamo a meno che non sia un personaggio importante nei fumetti io non sono un grandissimo lettore di fumetti fatemelo sapere con un commento qui sotto magari è veramente un personaggio tanto importante per Spider-Man quindi qui si aspettavano che lo spettatore sapesse tutto di Spider-Man al 100% compreso anche un bambino casuale che ha incontrato una volta in un fumetto non lo so non penso fatemi sapere ripeto tutto con un commento fatto sta ripeto che è una parte che arriva totalmente a caso non c'è Peter che dice voglio andare a casa di Tim ho conosciuto questo bambino ne ho nulla zero dopo una tiritera infinita a casa di questo di questo bambino abbiamo comunque un montaggio alternato con scene all'esterno che a questo punto erano scene salvatrici per il mio il mio non addormentarmi perché quelle a casa del bambino sono veramente noiose nonostante tutto questo tutta questa collezione di roba da farci vedere in pratica li faceva vedere a noi Tim più che a Spider-Man dopo fortunatamente questo montaggio alternato abbiamo Tim che chiede a Peter di levarsi la maschera quindi lui lo fa è il primo a questo punto la prima persona a conoscere l'identità tralasciando Green Goblin è il primo personaggio buono a conoscere l'identità di Spider-Man perché a quanto pare né Gwen né MJ qui la conoscono e Tim mette la forza che serve a Peter per ritornare ad essere Spider-Man effettivamente al 100% e poi muore Tim ok per quanto riguarda il personaggio di Tim succede tutto così debotto senza senso è comunque stata la prima volta che Spider-Man Lotus è riuscito a farmi non lo so pensare qualcosa direi tornando all'inizio qui Gwen viene utilizzata veramente pochissimo anche meglio forse perché l'attrice non mi sembra chissà che grandissima interprete poi vabbè non la conosco l'ho vista per pochissimo tempo ma c'è solo all'inizio e poi in qualche altro flashback chi l'avrebbe mai detto all'interno del film con MJ con qualche altro personaggio ma muore subito e ovviamente non ci fanno vedere la scena è tutto raccontato come in Spider-Man Blue e anche il finale è abbastanza simile non contiamo poi il simpaticissimo Henry che ha perso anche il padre in quella stessa notte quindi ha perso sia un'amica che il padre quindi è totalmente distrutto tanto da iniziare a drogarsi però chiudendo questa recensione anche con la parte spoiler perché avevo veramente pochissimo da dire ragazzi non che mi aspettassi chissà che grandissimo film perché è comunque sempre un fan made ma ripeto sotto il punto di vista fan made aspettative ripagate ma veramente noioso un film di due ore così noioso non l'avrei voluto vedere direi meno male che non è uscito al cinema perché spenderci anche soldi non sarebbe stato granché ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Spider-Man Lotus se volete fare spoiler mi raccomando prima scrivete spoiler poi lasciate qualche spazio e scrivete il vostro messaggio per non rovinare la visione a chi ancora non ha visto il film fan made in descrizione ci sono tutti i link dei miei social il link di pampling codice il pensiero 4 per avere un paio di calze gratis e supportare il mio lavoro e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao